Buongiorno, siete nel Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale di San Polo. A questo bancone potete prenotare tutti gli accertamenti necessari in corso di gravidanza ed anche il corso preparto. L'orario di apertura per le prenotazioni va dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 14, il venerdì solo dalle ore 9 alle ore 12. Per prenotare le ecografie ostetriche è necessario munirsi dell'impegnativa del vostro medico curante oppure del vostro ginecologo. Per le visite invece non è necessaria nessuna impegnativa. Per il corso preparto potete prenotare dal 18esima settimana di gravidanza alla 25esima senza impegnativa. Il corso è gratuito, è un corso teorico pratico che si svolge sempre all'interno della nostra struttura con incontri pomeridiani ai quali possono partecipare anche i vostri mariti o partner. Il corso è tenuto dal gruppo dell'ostetrica e del reparto con la presenza ad alcune lezioni della pediatra, del personale infermieristico della pediatria e anche dall'anestesista per le informazioni che riguardano la parto analgesia. Grazie.